Forse persino per i frequentatori più assidui risulta oggi difficile riconoscere gli spazi interni della libreria antiquaria Umberto Saba di via San Nicolò. Da qualche tempo i locali sono infatti sottoposti ad un necessario restauro, le pareti risultano pertanto spoglie, prive dell'essenziale, ovvero dei libri, che sono stati provvisoriamente alloggiati altrove essendo sottoposti ad un vincolo, vincolo che riguarda anche lo spazio interno della libreria. La libreria ha vari vincoli che impongono certe cose, la prima cosa è questo è il studio d'autore per cui questa ha una destinazione di uso, libreria antiquaria è, libreria antiquaria deve restare. Nell'ambito del studio d'autore e del vincolo per esempio è vincolata anche la carta da parati, la carta da parati che risale agli inizi del novecento come tutta quanta la casa, verrà restaurata. C'è una ditta specializzata di Gorizia che verrà, io voglio vedere come perché sono affascinato da queste cose, e restaurano tutta la carta, la puliscono, tolgono le muffe e la riattaccano dove è scollata e la parte dove manca la carta da parati viene dipinta col colore del fondo, un po' come si fa con i quadri antichi. La comunità ebraica è proprietaria dello stabile di via San Nicolò, della necessità di un intervento si era cominciato a ragionare parecchio tempo fa, prima della scomparsa di Mario Cerne, anima della libreria. La comunità ovviamente si è messa d'impegno per trovare quelle che potevano essere le soluzioni per un restauro, dal punto di vista economico da subito si è capito che si tratta di un'opera particolarmente importante ed impegnativa che non poteva essere sostenuta in esclusiva autonomia da parte della comunità. È iniziata una sorta di crowdfunding cui parecchie persone hanno preso parte, già che la consapevolezza di dover tenere viva quella che di fatto è un'istituzione culturale triestina subito si è manifestata, tanto che si può contribuire anche attraverso il 5x1000. Concluso il restauro assieme alle redi di Mario Cerne si ragionerà sul futuro della libreria, un futuro che la potrebbe vedere parte integrante di un percorso culturale ebraico cittadino. La libreria Saba è un punto un po' fondamentale forse in occasione di un giro turistico anche in città che può portare a conoscere meglio la comunità, quindi il suo museo, quindi la sinagoga, cioè un percorso ebraico.